Ciao amici, ciao amiche, benvenuti in un nuovo vlog. Facciamo la spesa insieme, sì perché dobbiamo fare la spesa e approfittiamo la facciamo con voi. Abbiamo il frigo ruoto. Ragazzi per la prima volta, praticamente ragazzi per la prima volta, quasi in sette anni che abbiamo il frigo ruoto. Sì perché non comprano più come prima, cose fresche, verdure. Carne le abbiamo. Ieri mi sono messa, cos'era, la tardi, a pulire tutte le verdure per salvarle. Ho salvato i finocchi e cavo il fiore. Era luna di notte. No, era forse mezzanotte. No, luna, luna, luna muore. Così l'ho salvato. Tutto il resto ragazzi, o è scaduto o ha fatto la muffa. Perché non mangiamo più come prima. Peccato. Però stavolta facciamo la spesa sana, prendiamo il giusto in modo che non buttiamo più niente, che non vada più a... Le guardiamo bene le scadenze. Le prendiamo lunghe, andiamo a prendere tutto. Andiamo. Benvenuto signor Norimberti. Grazie, grazie, grazie. Allora, iniziamo con l'insalata. Esatto. Ma come mai? Ho messo la musica stavolta, abbiamo parlato un po' più veloce. Allora, fuori di lattuga, giusto? Prendili molto dietro. Fuori di lattuga, giusto? Allora, vediamo la scadenza là. Il 9. Il 9, quello, vedi quando è? Questo è il 7. Eh, vedete, prendere dietro. Questo è il 9. No, questo è il 9. Questa qua, allora, dai, 9. Dobbiamo battere. Batti. Che almeno facciamo... È comodissimo quando c'è disponibile. Ah, 2, ne prendi? No, ma stai sbagliato. Cos'hai fatto? Perché 2? Eh, vabbè, prendiamo le 2. Vabbè, 2, dai. Hai battuto 2 pezzi, sì. 2. Poi, poi, io volevo, 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 le uova, le uova. Vanno prese per forza, comunque. Allora, però ne abbiamo più. Però le salate conviene le 2? Sì, perché il 9, amore, è una domani, una domani e l'altra fra... prima che scada, insomma. Allora, fino a chi le abbiamo bisogno? Eh, io direi di... Ma vuoi questo o quegli altri? No, io direi di finire prima quello che abbiamo in casa e poi ricompriamo quelli, quindi non prendere. Sì, perché la verdura va presa... Le zucchine non le abbiamo, le zucchine non le abbiamo, amore. Guarda, 1,50 qua. Prendi queste, queste, queste qua. Guarda, queste sono 1 ai 30. Prendi queste, queste, va benissimo. Quelle, perfette. Prendi queste? No, sono pure aperte, no, per carità. Allora. Bene. Basta, possiamo andare. Ok, vediamo. Perché queste costano di più, al solito noi prendiamo queste, ma costano 2,68, quindi no. Adesso prenderei... Eh, per la testi? No, perché abbiamo detto... Ah, sono in offerta, però, non lo so. Eh, vabbè, possiamo arrivare l'altro giorno. Fino a quanto dura l'offerta? Eh, fino al 27 marzo? No, scusa. Il 27 marzo, siamo ad aprile, amore. Perché c'è sta roba? Ah, no, qua. Eh, fino al 27 marzo. Perché? Ma scusa, siamo ad aprile. Ma che... o è sbagliato il cartello? Perché non è possibile che fino al 27 marzo? Ma amore, ma siamo ad aprile? Siamo ad aprile? Marzo, aprile... Ah, avranno... Avranno sbagliato. Eh, no, qua ci sono tutti i nostri... Vabbè, dai, quando ci saranno, li prendiamo. E io non voglio buttare più niente, amore. Infatti, secondo me, la cottura... Cavoli fiore ce l'abbiamo. Quando la finiamo. Ok. Le carote? Se le vuoi, le prendiamo? No, è vero che sono... No, 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 lascia stare, lascia stare. Cosa? Sono zuccherate, mi lo dimenticate. Ma per te van bene, eh? Eh, no, ma non... Se tu le vuoi, possiamo prendere, perché... No, sicuramente per riscontrare tipo di capigola. Ok. Qua... Allora, serve il... Allora, mi serve il basilico, perché quello che avevamo, ragazzi, purtroppo c'è, è andato a male. Allora, il basilico... Il basilico dov'è? Perché mettono tutto così? Questo è menta. Questo cos'è? Prezzemolo... No, coriandolo. Allora, allora... Non c'è il basilico? Aspetta. Possibile? Non c'è il basilico. Allora, forse qua, scusa, amore. Questo è il basilico, eccolo qua. Eh beh, sembra la sannolino in cera. Questa bella vaschettina, guarda. Prendiamo questa, perché devo fare le polpettine con il sughetto, quelle dell'aia, sempre con le verdure. E... Senza condimenti, ci aggiungiamo questa che dà un po' di sapore in più. 98 centesimi? Sì, sì, il basilico costa poco, amore. Poi, andiamo... Ancora le colombe, mamma mia. Non manco mezzo, l'abbiamo mangiata, via via. Orrore, orrore. Ma orrore comunque anche se non avessi il diabete. Non vuoi le prezzi? No, no, perché quelle le prendo da lì, dell'amore. Beh, potresti guardare i prezzi? No, no. Guarda, 7 euro. Ah, per due... Sto scherzando? Tutte? Sì, le... Ah, già. Andiamo indietro, dai. Aspetta. Il grappolo? Prendiamo questi, sì, dai. Ah, questi sono 1,59. Però sono proprio brutti. 1,92. Qui sono verdi. Vabbè, questi qua, no, dai. Questo, amore, 1,92, va bene, secondo me. Sì, sono gli unici che... Dai, ok. Qua vediamo se c'è qualcosa. Le olive, non mi va. Carciofi, non lo so. Vediamo la tabella. Cos'è sono i carciofi? Ah, no, hanno due migliori passati di carboidrati, anche se di zuccheri hanno 0,5, ma perché questi qua devono non avere tanto olio. Però no, non mi va, non li prendo. Tu non ce li abbiamo. Sì, ce li abbiamo, ma lo stiamo finendo, però non ci serve così tanto. Qua non ci serve nulla. Niente. Le cose della Kimbo, amore? Qua? Qua costano. Ah, no, queste qua mi sa che non sono... Ah, no, Sinespresso. Queste qua costano 7,49 euro. Ti servono? Sono 40. Ma onestamente, però, c'è ancora gli 80 della... Eh, allora, cioè, guardate che vanda, cioè, ragazzi, guardate che gentaglia. E questo magari per prenderne una, eh. Che vergogna. Vediamo, va. Sì, che belle le piante, che se lunga. È la rossa e io e il caffè. Eh, allora sei a posto. Anche perché non mi sembra così tanta offerta, so. No, è l'offerta di essere un pochissimo... Allora, vediamo. Abbiamo bisogno del formaggio, però non questo. gram mix, che è un mix di formaggio e non mi piace. Non è quello che prendi bisogno. No, non è questo, quello mago. Guarda come è grasso. È una confezione blu. Le mozzarella le abbiamo? Le mozzarella le si le abbiamo. Ok. C'è lì, ne offerta. Prendi ne uno. Vedi la cadenza più lunga che puoi, amore. Quando state? 14,4. Eh, se ci fosse un po' più in là sarebbe meglio. Vediamo. Questi, ragazzi, per la merenda non possono mancare. Il 14,5. Vabbè, prendi quello. Abbattino i quattro di questi. Aspetta un attimo. Ciao, questi quattro dei batter. Andiamo a vedere nell'altra vasca. Amore, vuoi il salmone? Non lo so. Le uova? Qua è l'offerta. C'è o questo o questo qua, che mi sembra più bello. Non lo so, vediamo. Prima facciamo il giro. Le uova? Sì, amore, adesso lo arrivo. Qua c'è questa roba, se a voi interessa. Amore, ci dovrebbe essere la Bresaua da Citteria in offerta. Adesso la prendiamo. Questa è un'offerta. Non abbiamo più formaggi in casa. Sono tutti scaduti. Zucchero zero. Amore, questo qua è zucchero zero. No, quella non mi piace, è troppo alta. Prendiamo questa. Questa vuoi prendere? Quale? Cacchino. Abbiamo ancora quello l'erbe, però se vuoi prenderlo, prendilo. No, no, però è 3,90. No, è giusto, è prezzo buono. Prendiamone una confezione che c'è dentro due. Cosa facciamo questa? La prendiamo a zero zucchero. Ma la mangiamo tutta o non è nostra? Non la mangiamo tutta. Scada giugno comunque questa. Scada giugno va bene. Questa un pochino alla volta per cambiare un po'. Allora, questo che è molto buono. Ora le uova. Le uova sono qua, però dobbiamo prendere il citerio prima e qua. Facciamo il giro qua. Quello malato, eh? No, la Bresaua la sto cercando. Alla Bresaua. Citerio, amore, questa qua è sufficiente. di cercare la Bresaua. Ah, quella piccola? Sì. Ah, spec, coppa, salame. Dove è la Bresaua? Queste salame, quelle salame. Non c'è più la Bresaua. 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 Eh, si vede che è finita. Ahia, deve essere finita. Guarda là. No, non c'è. Io non la vedo. Non la vedo. Vabbè. E non c'è una Bresaua? No. Ah, aspetta, qua, qua, forse. Allora, qua c'è il crudo. Ah, la Bresaua forse qua. Eccola qua, amore, eccola. Prendine due. Che costa due, 23 luna. Di queste facciamo una testa perché sono 60 grammi. Esatto. Io con limone, molto buona. Io senza. Uova. Uova. Qua non ci serve nient'altro? No, qua no. No. Andiamo. Qua altre colombe, ragazzi. Bisogna. Basta. Io trovo il succo che non sia privo, che sia privo di grassi. Il succo? Sì. Ma i succhi non hanno i grassi, hanno gli zuccheri? Ma tanti? Dipende da quello che prendi, amore. Vuoi bere quanto il succo? Eh, ma il succo alla pera tu lo puoi bere, eh? Eh, sai che quasi qua, non adesso. Non lo so, comunque lo voglio prendere, eh. Da bere un bicchiere così ogni tanto. Eh, prendi il succo alla pera, amore. Come ancora i crodini da Natale. Ma io non li bevo, comunque. Ma io lo bevo ogni tanto per non farli buttare l'elettro a buttare. Allora, gli attimi ce li abbiamo in casa, ma non sono in offerta perché c'è un'offerta questo. Però questo non va bene perché non ha zero grassi e zero zuccheri. Tipo questo, vedete? Zero grassi e zero zuccheri. Che noi prendiamo cocco e fragola. Che a resta lunga fragola non c'è mai. Boh, vabbè. Ovviamente. Oh no, vabbè. Lactime di Barbie. Vediamo. Carino. Allora. Eh, 10 e 10. Eh, è troppo. Però è carino. C'è la confezione. Bella. Bella, vabbè. Vede bambine e bambini. Spider-Man. Niente qua. Oh, è pippo. Vabbè. Fra qualche mese vi mangerò, dai. Le uova, le uova, le uova, le uova, le uova. Poi? Siamo a 30,91. Eh, la carne? Vediamo. Eh, lo sgombro devi prendere, eh. Io ho uno ma ne prendo un altro. Però stavolta lo volevo prendere grigliato. Ah, guarda, è pure in offerta, guarda. Io ho grigliato. Ma qui ho uno. Prendilo. Che questo qua io lo mangio anche con l'insalata, eh. Eh, fai bene. Ha una puzza sta roba, ragazzi. Cioè, mamma mia. Orrore, orrore. Allora. Ecco, abbiamo finito la nostra spesa, ragazzi. Quindi? Quindi ci possiamo andare. Sì, possiamo vedere meglio. Vabbè, dirigiamoci. Cioè, il frigo è vuoto, è vero. Però il freezer no. Però la carne non l'ho trovata, ragazzi. Cioè, non lo so. Però abbiamo preso a Roma comunque insalata. Non ci sono tanti sconti, sicuramente. Dobbiamo vedere la Tigros dall'altra parte anche. Perché non ci sono. A me è aggrava questa spesa, comunque. Sì, la spesa è sana. Perché alla fine, pomodori, insalata, sgombo. Cioè, tutta roba che non fa male. Esatto. Poi ormai ci stiamo abituando a fare questa... Niente, andiamo, facciamo vedere, dai, magari, come avviene. Allora... Guardate, vi faccio vedere come avviene il putto. Qua vai. Allora, innanzitutto facciamo così. Come funziona? Adesso, se c'è la rilettura, ce li fanno la rilettura. Poi. Allora, cosa dice così? Acquista, partecipa alle otterie. No, prosegui. Prosegui, facciamo, poi... Sacchetti, sì, metti sacchetti. Quanti? Due. Due. No, 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 no. Usa i nostri buoni, giusto? Esatto. Ok. Buon acquisto. Buon acquisto, fidati. Ok. Uno. Uno. Conferma. Speriamo 6 euro di Adri. Adesso qua deve mettere, appunto, la data di nascita dal mio marito. La mia? La tua. Ah, penso che la tua. Tutti. No, la tua testa, la scusa. Credici. Questa è per la sicurezza. Ok. Avete visto come è pratico? Prosegui. Adesso paghiamo il restante. Facciamo contanti. Dove l'è qua? Chi? Tac. Ok. Ok. Prendi la moneta e paga. Qua sta accendo il bocchettone. Prendi, amore. Il bocchettone da l'aria. 6 euro e 10 centesimi. Avete visto? Quando si vuole risparmiare. La moneta è qua, eh. C'è i 6 euro e 10 per caso? Sì. Ma va che bello. Quando si vuole essere un po' si spende solamente i 6 euro e 10. Magari. Perché avevamo il buono da scalare. 6. No, non mettere i 5 euro di carta, ma tutto di moneta. Sì, sì, tutto. Allora, sono 2, 4, 6. Devo mettere i 50 centesimi. Beh, ti dà il resto. Passo poi c'è nel resto, ragazzi. Adesso andiamo a prendere i sacchetti. E poi adesso c'è lo scontrino qua. In fare adesso così. Sì. Questo te lo regalo. Adesso vado a fargli vedere che ho pagato i sacchetti. E prendiamo i sacchetti lì. Bene, ciao amici. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.